Scavalcano la recensione del campetto da calcio e giocano, nonostante l'espresso di vieto contenuto nel DPCM del governo contenente le misure di sicurezza contro il Covid-19. Il provvedimento infatti vieta gli sport da contatto sia al chiuso che all'aperto ed è per questo che a Sternatia, al campetto Matria, sono arrivati i carabinieri rimandando a casa i ragazzini. Il sindaco del comune della Grecia, Salentina Massimo Manera, ha quindi voluto ribadire con una nota che quanto è accaduto è inaccettabile. Mi rivolgo contemporaneamente a quei ragazzi e ai loro genitori. Con le scuole chiuse hanno scelto di impegnare la mattinata in modo diverso, hanno scavalcato la ringhiera del campetto e hanno iniziato a giocare come se nulla fosse. Questo è pericolosissimo perché bisogna prestare la massima attenzione per evitare il contagio. Per fortuna sono immediatamente intervenuti i carabinieri e tutto è finito, ma l'autoresponsabilità e il senso civico? Il Covid lo può contrarre ognuno di noi, ma ognuno di noi può contagiare i membri, della propria famiglia, gli amici con estrema facilità, conclude il primo cittadino di Sternatia. Impendiamoci tutti come dovere morale. L'amore per lo sport è un sentimento comprensibile. Quello che stanno vivendo i ragazzi di questa generazione è una situazione che mai nessuno prima aveva provato. Ma rispettare le regole è un insegnamento che probabilmente questi ragazzi si porteranno avanti per la vita. Grazie.